Per sapere se nella casa di Zingo rinvenuta ieri ci sono le spoglie del beato Antonio dovremo aspettare ancora. Come da prassi anche la magistratura è stata avvertita del ritrovamento dalla polizia locale di Fano e pertanto il magistrato Maria Letizia Fucci nella tarda serata di ieri ha sequestrato la parte di cantiere che ospita il feretro. Un ritrovamento che ha lasciato tutti un po' sorpresi dal vice sindaco al dirigente Giangolini lo stesso padre Mandolini attuale priore di Santa Maria Nuova scettico sin dal principio sulla presenza della mummia del beato in quella parte di chiesa. Ed invece la cassa c'è e dovrà essere spostata perché in quel preciso punto dovrà essere ripristinato l'antico passaggio tra il convento e la chiesa murato nella ristrutturazione degli anni 50 probabilmente proprio quando fu collocato anche lì il feretro del frate. Aspettiamo a breve diciamo un intervento del magistrato che comunque ha competenze e deciderà insieme spero a noi insomma al comune e a tutti gli operatori coinvolti quando trasportare da lì trasportare rimuovere la bara quando aprirla e ovviamente facendo in modo noi come amministrazione comunale intendiamo dare come dire risalto a questa notizia perché è una piccola storia della nostra grande città ma soprattutto vorremmo documentare in tutto e per tutto il ritrovamento avvenuto e quindi con audio e video ovviamente lo faremo senz'altro ma aspettiamo che la magistratura insomma ecco possa possa rilasciare queste autorizzazioni in un posto idoneo alla resumazione di un probabilmente di un corpo anche se magari potrà essere mummificato come la storia le tradizioni orali ci comunicano oppure in altre situazioni quindi ecco aspettiamo di avere queste autorizzazioni per poterlo fare.